Tutte queste partite si fanno sentire, ma penso che tutte quante volevamo un po' riscattarci dalla partita di ieri perché non abbiamo espresso la nostra migliore versione di noi. Penso che queste partite servono per trovare un po' di ritmo, per trovare un po' di amalgama tra di noi e costruire il nostro gioco. Oggi abbiamo fatto vedere tante belle cose, credo, soprattutto in vista per la partita di domani e siamo contenti, possiamo solo che migliorare. Domani giochiamo qua in casa del Brasile, non è facile, il pubblico si fa sentire, ma è un motivo di carica. Penso che bisogna giocarsela tranquillamente, vedere a che punto siamo sia noi che loro e penso davvero avere il palazzetto pieno con tutto il tifo così è bello da giocare, sono le partite per cui si gioca.